Lunga giornata di protesta ieri per i dipendenti della Multiservice di Potenza che si occupano del servizio di assistenza ai bambini diversamente abili nelle scuole del capoluogo di Regione. Italia le risorse destinate al servizio mettono a rischio numerosi posti di lavoro e potrebbero creare difficoltà alle famiglie. Ieri i sindacati di categoria hanno evidenziato le preoccupazioni dei dipendenti e dei genitori dei bambini diversamente abili in un incontro in Regione a Potenza a cui hanno partecipato i rappresentanti del MIUR e dell'amministrazione comunale. Nel corso dell'incontro è stato chiarito che il servizio di assistenza base ai bambini diversamente abili nelle scuole spetta al MIUR che lo garantisce con il personale ATA mentre i servizi specialistici di assistenza sono a carico del comune ed è solo di questi ultimi che dovrebbero occuparsi i lavoratori della Multiservice Sud di Potenza i quali però dicono di aver sempre fatto anche assistenza di base. A dargli ragione i genitori dei bambini 61 in tutto quelli che avrebbero bisogno quest'anno di assistenza a scuola che ieri hanno deciso di unirsi alla protesta organizzata davanti alla sede della Regione Basilicata dove si è spostato il confronto sulla delicata vicenda. Il presidio dei dipendenti della Multiservice è terminato a fine giornata dopo l'incontro tra i sindacati di categorie e di rappresentanti della Multiservice con i quali sarebbe stato ipotizzato il mantenimento dei 75 lavoratori a tempo indeterminato con riduzione delle ore lavorative mentre per i restanti a tempo determinato si potrebbero valutare soluzioni con Regione Basilicata e MIUR. I sindacati hanno chiesto di mantenere almeno per un altro anno la stessa occupazione e gli stessi servizi degli anni precedenti così da rivedere nel frattempo le condizioni di lavoro ed anche per far acquisire ai dipendenti Multiservice i titoli necessari ad assicurare l'assistenza specialistica che compete al comune. Per mantenere il servizio e i diposti di lavoro servono però altre risorse difficili da trovare. Nel frattempo oggi i lavoratori della Multiservice sono tornati a lavorare. Domani previsto un altro incontro in Regione tra le parti e per il prossimo 24 settembre invece è stata convocata una riunione anche con l'ASP per definire un accordo di programma.